Ecco a voi il tanto atteso haul di tutto quello che ho preso ieri al centro commerciale Iniziamo con Victoria's Secret, non vi aspettate intimo glitterato perché non ho preso nulla di tutto ciò Ho preso una cosa che mi serviva troppo Perché mi sono accorta che nell'armadio ho tantissimi pigiami che dopo un tot devo buttare perché si rovinano E quindi ho deciso di prendere un bel pigiama Super minimal, super basic, però mi piace veramente un sacco Tra l'altro è di cotone, super morbido, la qualità mi piace tantissimo Questo è al sopra, ho preso un XS e questo è il sotto Super largo con questi dettagli in prosa, ci piace Ovviamente non in saldo Passando a Zara, chi mi segue anche nell'altro social saprà che ieri c'era letteralmente in panico Volevo riuscire a trovare qualcosa con i saldi ma ovviamente secondo voi ci sono riuscita? No raga perché vi giuro non si capiva letteralmente nulla Quindi sono andata direttamente nel reparto nuova collezione E in primis ho preso questo body tipo color tuta Super carino, ho preso una S che tra l'altro so già come affinarlo però mi manca un altro pezzo da comprare Ho preso questa gonnellina super carina che mi dà molto vibes di Safari Tra l'altro è comodissima perché è un pantaloncino Però mi piace veramente un sacco Poi dato che non bastava una gonna ne ho presa un'altra Un taglio completamente diverso, questa è molto più classica però molto particolare Perché ha l'elastro tipo della mukanda già incorporato Super ma super carino, ho già degli outfit in mente Terminiamo il nostro haul con un altro body In Aligra questa volta con il colletto In questa colorazione così cambiamo anche un po' i colori dell'armadio E super carino, ho dovuto prendere una M perché i vesti sono veramente stretti, piccolissimi Mamma ci tiene a dire che è un colore tra petrolio Perché li prendo sempre neri Perché li prendo sempre neri quindi per cambiare ho preso questo colore petrolio Questo è tutto quello che ho acquistato ieri Ho acquistato tutti i capi di Zara con il buono che mi avevano fatto per il compleanno E quindi niente ci vediamo per il prossimo haul Leveando un bacio Grazie